Amici ciao a tutti e ben ritrovati, oggi le nostre telecamere sono puntate direttamente sui grandi affari di Autopitagora. Ci troviamo in Corso Urbassano 277 a Torino e al mio fianco come sempre ritrovo Mario. Ciao, ben ritrovato. Sì, ciao, benvenuti. Ricordiamo che acquistiamo il vostro usato per contanti con la massima valutazione senza obbligo d'acquisto e sempre per i mesi di novembre dicembre continua la campagna Rottamazione, cumulabile col finanziamento a tasso zero. Bene, ricordo che sono oltre il 300 le vetture disponibili e ora vado a salutare anche Donato. Ciao, ben ritrovato. Ciao a tutti e ricordo che acquistiamo il vostro usato per contanti e le vetture sono garantite fino a 36 mesi. Bene, allora non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire insieme la scaletta firmata Autopitagora. State con noi. E apriamo con una grande occasione di casa Alfa Romeo con una Mito 1420 cavalli GPL Distinctive dell'anno 2012, solo 50.000 chilometri percorsi. E quale miglior stagione per la BMW X3 Drive 2000 allestimento futuro ad un ottimo prezzo, venite a scoprirlo. Attenzione, solo 5.900 euro per l'Opel Tigra Twin Top Cabrio dell'anno 2008 con interni in pelle e cerchi in lega da 17. Anche mezzi commerciali qui da Autopitagora come il Fiat Doblò 1.6 Multijet Maxi dell'anno 2010. Disponibilità di Fiat Panda 4x4 vari colori allestimenti, 1.3 Multijet a chilometri zero a partire da 14.900 euro. E di casa lancia la Delta Twin Turbo 190 cavalli con navigatore interni in pelle, tetto apribile dell'anno 2012. E non mancano di certo le vetture sportive come Alfa Romeo Giulietta Distinctive dell'anno 2011 con soli 35.000 chilometri a 13.900 euro, ma anche un SLK, oppure una Lancia Ypsilon 1.3 Multijet 90 cavalli platino interni in pelle e climatizzatore automatico dell'anno 2013, o una Volkswagen Golf sesta serie Comfort Line 5 porte dell'anno 2010. Grande occasione anche per l'Alfa Romeo GT Distinctive dell'anno 2008, proposta a soli 7.900 euro. E la volta del SUV di casa Lancia, la Fedra 2.136 cavalli allestimento oro dell'anno 2010, accanto la Fiat Chroma 1.9, 150 cavalli must con interni in pelle, tetto apribile e navigatore, solo 60.000 chilometri percorsi. Grande occasione di casa Lancia, la Musa con impianto GPL, ma disponibili anche vari colori, modelli e motorizzazioni a partire da 5.900 euro. Se amate i grandi affari, non perdete l'occasione di casa Fiat, il SUV, il Fremont 140 cavalli allestimento Urban dell'anno 2010 a 14.900 euro. Jeep Cherokee Limited Edition dell'anno 2011 con tetto apribile e navigatore, solo 50.000 chilometri percorsi. 70.000 chilometri per l'Audi A4 Allroad 2.177 cavalli con interni in pelle e navigatore dell'anno 2011. Ed è sempre di casa Audi il fantastico Q5 2000 TDI con interni in pelle e navigatore e fari all'oxeno dell'anno 2011, unico proprietario. Pari al nuovo ad un prezzo straordinario solo 6.900 euro per il Toyota RAV4. E se amate la cittadina per eccellenza, la Smart qui da Auto Pitagora ha vari colori e modelli per la Smart Passion, ma a fianco anche una Smart 4.4 con pochissimi chilometri a soli 2.900 euro. Ottima occasione, ottimo il prezzo per l'Audi A4 2000 TDI Avant full optional con navigatore e cerchi da 17. Altra super occasione, super offerta, questa volta parliamo di casa Mercedes con una C320 allestimento I'm Gay Limited Edition dell'anno 2008, incredibile, 12.900 euro. E per tutti coloro che amano la casa del Biscione, ovvero casa Alfa Romeo, qui da Auto Pitagora ha vari allestimenti e colori per l'Alfa 159, questa è dell'anno 2010 a partire da 8.900 euro. E dell'anno 2009 la BMW 320 Diesel Station Wagon allestimento Futura con navigatore e cerchi da 17 interni in pelle, super occasione, vero affare. Intramontabile Volkswagen Golf 1.900 TDI Comfort Line dell'anno 2008, unico proprietario, prezzo 9.900 euro. E se cercate una Fiat 500 L qui da Auto Pitagora ha vari colori e allestimenti, disponibile chilometri zero, usate e aziendali. Parliamo ora di mezzi commerciali come Fiat Fiorino dell'anno 2008, 1.3 Multijet con solo i 25.000 chilometri percorsi, o lo Hyundai H1 tre posti, completamente climatizzato e a fianco un Peugeot Partner 1.6 HDI tre posti. Anche vetture super economiche per neopatentati da Auto Pitagora come Fiat Panda aziendali a partire da 4.900 euro, Lancia Y12 Elefantino o Fiat 600 1100 dell'anno 2009. E sempre tra le vetture economiche, la Peugeot 206.600 cabrio con pochissimi chilometri, proposta a soli 2.900 euro. E per gli amanti delle autovetture d'epoca, qui da Auto Pitagora, la Fiat 600 è un'introvabile con trattativa riservata. Altra vettura intramontabile d'epoca, la Mercedes SL 500, 350 cavalli. Altra piccola e simpaticissima vettura per amatori, parliamo della Fiat 500 dell'anno 1975, a soli 30.000 chilometri. È tutta originale, completamente rivista ed è iscritta all'ASI. Ed eccezionalmente per voi, ad un prezzo altrettanto eccezionale, è un T-Max 500 dell'anno 2007. E concludiamo la scaletta di quest'oggi con un Renault Modus 1500 CDI dell'anno 2005, proposta a soli 3.900 euro. Bene amici da Auto Pitagora, è il nuovo l'usato, le chilometri zero, le aziendali, soprattutto prezzi straordinari. Non manca davvero nulla, mancate solo voi in Corso Orbastano 277 a Torino. Ricordiamo gli orari, Mario. Sì, i nostri orari sono dalle ore 9 alle ore 22, tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. Bene, non solo vendita, naturalmente anche servizi e assistenza, vero Donato? Finanziamento in sede e con incendi e furto inserito nella rata. Ma anche officina, finanziamenti, come diceva Donato, non vi resta che venire di persona, come dicevo, in Corso Orbastano 277 a Torino. Io vi ringrazio per averci seguito e come sempre lì nella regia.